Sono, secondo me, uno dei capolavori più belli di Fattino, io paremmo. Infatti una cosa strana, non ho mai capito il perché, quanto sia stato questo libro rubacchiato dalla musica, da Idovisa Maneri, che poi suonerà il violino, a un progetto proprio su Vista Invisibile, anche con un proprio cd, così come ho detto, ma anche altri si sono cimentati con questo testo, perché le vicinanze del carattere metà letterario, della fisica, che sono dentro, facilmente danno la possibilità, non finirsi, di poter fogliere i significati e perciò asserire in quella musica. E la struttura del libro, dicevo, è metà letteraria, è al contempo semplice e complessa. Ogni titolo, c'è un parco importante, ogni titolo, componente del libro, sono 11 titoli, sono ripetuti nelle varie sezioni 5 volte, e poi il titolo, meglio il titolo, i fornici, si avranno e si giudono con tre puntini di sospensione e indicano con la graffina in corsivo, dove il dialogo con Marco Polo e l'interattore pubblicano sulle descrizioni specificità invisibili. Grazie. Grazie. Grazie.